Rivolte a Napoli, per De Luca solo camorristi e fascisti. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato come ospite a Che Tempo che fa, trasmissione su Rai 3 di Fabio Fazio, per commentare i disordini di Napoli. Le violente proteste, sfociate in guerriglia urbana, sono iniziate per contestare la scelta del governatore di imporre il coprifuoco alle 23. Ad accendere il fuoco, anche la minaccia a De Luca, poche ore prima, di chiudere la Campania in un nuovo lockdown. Una vera esasperazione verso le limitazioni. Chiariamo anche che c'è un malessere sociale profondo che merita rispetto, comprensione, ma merita soprattutto risposte socio-economiche concrete e rapide. È probabile che le proteste siano degenerate a causa di infiltrazioni camorristiche e di ultrachi hanno approfittato per aggredire i poliziotti e mettere la città a ferro e fuoco. Nell'intervento a Fazio, il presidente ha considerato solo queste fasce estreme dei partecipanti alla manifestazione, nata per volontà di commercianti, ristoratori e rappresentanti di categoria. I protagonisti centrano ben poco con il disagio sociale, con il malessere delle categorie economiche. I protagonisti sono tre, pezzi di camorra, pezzi di antagonisti, pezzi di neofascisti e potremmo aggiungere anche pezzi di qualcos'altro. De Luca ha anche sminuito il lancio di petardi e bombe carta definendolo la classica piedigrotta. Scassam tutta, cioè scassiamo tutto. E così si sono ritrovati. Poi ha visto che alla fine c'è stata anche una festa, un po' di piedigrotta, fuochi d'artificio, petardi. È stata veramente una bella manifestazione.